Musica Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata internazionale per i diritti delle bambine e dei bambini. Per l'occasione l'assessorata Welfare e il servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza hanno organizzato in piazza municipio una manifestazione per sensibilizzare ogni cittadino alla tutela dei minori. Oggi ricorre l'anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosciuta dall'ONU, dalle Nazioni Unite. L'idea era quella non soltanto di ricordare per celebrare o per parlare dei diritti dei bambini ma è quello di stare con i bambini perché forse spesso ci dimentichiamo che il primo diritto del bambino è quello di avere la possibilità di stare con i propri genitori e con gli adulti di riferimento di avere uno spazio per giocare, di vivere veramente in un contesto di pace anche tutti insieme. Bambine e ragazze di tutti i quartieri della città, dalla Sanità a Scampia, si sono riuniti per cantare, danzare e mostrare i progetti creati appositamente per celebrare questa giornata speciale. Dopo le diverse esibizioni i presenti hanno realizzato grandi girotondi in tutta la piazza per liberare in cielo centinaia di palloncini ai quali erano legati pensieri, riflessioni e sogni scritti dagli stessi ragazzi.